Una turista toscana in vacanza a Riccione è in rianimazione dopo un volo di 7 metri dal balcone di un hotel, indagano i carabinieri. Un ciclista rimenese questa mattina è stato investito sulla statale a Riccione e lasciato ferito sull'asfalto. La polizia stradale è al lavoro per risalire al conducente pirata. Coronavirus. Rimini per il terzo giorno consecutivo supera i 100 casi. Oggi però ci sono anche due vittime. In regione contagi stabili. Gloria Lisi ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale. Questa mattina all'inaugurazione della sua sede non ha risparmiato frecciate agli esponenti del PD. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Carotigia. Apriamo questo appuntamento con la cronaca tragedia per il momento sfiorata nella notte a Riccione dove una giovane turista è precipitata dal balcone di un albergo. Ora si trova in gravi condizioni il servizio. È volata giù da un'altezza di 7 metri finendo all'interno del cortile dell'hotel Nizza Riccione dove alloggiava insieme ad amici. È ricoverata in reanimazione la turista diciottenne della provincia di Prato precipitata dal terrazzo della sua camera d'albergo situata al secondo piano. Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quello che al momento appare un tragico incidente. Se ne stanno occupando i carabinieri del nucleo operativo di Riccione intervenuti ieri sera sul posto poco dopo le 23. La ragazza in vacanza in riviera con amici sarebbe rientrata in hotel da sola per cambiarsi. Al momento della caduta quindi non si sarebbe stato nessuno oltre a lei all'interno della stanza. Ecco perché i carabinieri ipotizzano che all'origine dell'incidente possa esserci un malore improvviso. L'impatto con il terreno considerata l'altezza è stato certamente violento ma attutito dal brecciolino presente in quel punto. La diciottenne caduta sul fianco ha riportato diverse lesioni interne oltre ad un serio trauma cranico. Immediati soccorsi del 118 arrivati in viale d'annunzio con ambulanza e automedicalizzata. I sanitari hanno stabilizzato la turista poi trasferita d'urgenza all'ospedale Buffalini di Cesena dove è stata operata nella notte. La prognosi resta riservata. Gli amici che erano in vacanza con lei sotto shock sono stati ascoltati dagli investigatori. Al momento del tragico volo però tutti hanno confermato di trovarsi in spiaggia. Pare esclusa quindi almeno per il momento la mano di Terti sulla turista toscana nel frattempo sono stati effettuati anche gli esami tossicologici. I militari infatti vogliono capire se al momento della caduta fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. La polizia stradale sta dando la caccia al pirata della strada che questa mattina poco prima delle 8 ha investito un ciclista sulla statale a Riccione. Il ferito è un 72enne riminese che è stato notato a terra a bordo strada da alcuni automobilisti di passaggio all'altezza del cimitero vecchio. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Il 72enne che avrebbe riportato un serio trauma cranico dovuto alla caduta è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Gli agenti della stradale sono al lavoro per risalire all'automobilista che ha investito l'anziano senza fermarsi. E restando in tema di cronaca, è sempre Riccione, composta da un neo 18enne tunisino e due 17enni, uno marocchino e l'altro italiano di seconda generazione, tutti residenti in provincia di Milano, la banda delle collanine che terrorizzava Riccione, finita ieri notte dritta dritta nella rete dei carabinieri della Perla Verde, che hanno fermato il terzetto mentre fuggiva, dopo l'ennesimo furto con strappo, lungo la nuova passeggiata del Marano, vittime questa volta dei giovani turisti lombardi che hanno riconosciuto senza indugio i loro aggressori. Il 18enne e i due 17enni avevano ancora addosso le cinque collanine d'oro appena rubate. I minorenni sono stati arrestati e trasferiti nel centro di accoglienza di Bologna a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, mentre il maggiorenne è finito in carcere in attesa della convalida del fermo. Voltiamo ora a pagina e passiamo all'aggiornamento sul coronavirus. La provincia di Rimini resta una delle più colpite, ancora più di 100 nuovi contagi e oggi anche due vittime, le uniche in regione. L'Emilia Romagna per il momento non rischia la zona gialla, il servizio. Per il terzo giorno consecutivo nelle riminese si registrano oltre 100 positivi, sono 112 per l'esattezza di cui 68 con sintomi. Peggio fa solo la provincia di Bologna con 138. Rimini oggi si segnale negativo anche per numero di pazienti deceduti. Sono due gli unici in regione. Si tratta di una donna di 81 anni e di un uomo di 99. A livello regionale oggi lieve calo di casi. Sono infatti 685 contro i 717 di ieri. Il nuovo monitoraggio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute conferma che la regione rimarrà in zona bianca per un'altra settimana. Stando al nuovo report infatti l'Emilia Romagna si mantiene nella fascia di rischio moderato, anche se i principali indicatori del contagio sono in risalita. L'indice RT passa dall'1,72 della scorsa settimana all'1,78. L'incidenza dei casi tocca quota 78 ogni 100.000 abitanti, mentre nel report precedente era 65. Sul fronte ospedaliero sale l'occupazione delle terapie intensive che arriva al 3%, rimanendo comunque ben lontana dalla soglia critica per il passaggio in zona zalla, prevista al 10% secondo le nuove linee guida del governo. I casi attivi, cioè malati effettivi, ad oggi sono 10.115 più 552 rispetto a ieri. Di questi, quelli in isolamento domiciliare, quelli con sintomi lievi che non richiedono cura ospedaliere o risultano privi di sintomi, sono complessivamente 9.813, il 97% del totale. Le persone guarite sono 131 in più rispetto a ieri, 34 delle quali nelle riminese. Infine, il capitolo recovery. Sono 280 malati di covid nei reparti di area medica, più 17, mentre sono globalmente stabili quelli nelle terapie intensive Emiliano-Romagnole. A Rimini sono attualmente due, uno in meno di ieri, in tutta la regione 22. Apriamo ora la pagina della politica. Anche Gloria Alisi dà ufficialmente il via alla campagna elettorale. Il taglio del nastro della sua sede è stata l'occasione per tornare sui motivi che l'hanno portata la candidatura e per rispondere anche agli attacchi arrivati da parte del PD. Sentiamo. Con l'inaugurazione della sede elettorale in piazzale Cesare Battisti, Gloria Alisi inizia la sua campagna elettorale. A sostenere la ex vice sindaca ci saranno al momento quattro liste in rappresentanza del mondo delle imprese, dei giovani e del benessere. A queste potrebbe aggiungersi anche il Movimento 5 Stelle, ma, ha spiegato, ad oggi non ci sono novità dopo gli incontri dei giorni scorsi. La Lisi ha parlato genericamente di punti di contatto con alcune forze politiche e ha ribadito che al centro ci sarà l'azione amministrativa e non l'appartenenza politica. Abbiamo questo progetto che è diverso, va a scardinare anche, se vogliamo, gli stereotipi che non fanno mai e non permettono mai alle persone di dire venite da qualsiasi estrazione voi appartenete, purché vogliate il bene di questa città. Io ho lavorato per molti anni ho presieduto il distretto sociosanitario Rimini Nord e lì c'erano sindaci di destra, sindaci di sinistra, sindaci di centro e lavorare insieme per il bene dei cittadini mi ha insegnato tanto, al di là veramente degli schieramenti, penso che si possa fare un buon lavoro quando si ha in mente quell'interesse lì. Ribadendo l'importanza del lavoro di squadra e della condivisione e il suo essere alternativa a sinistra e destra, la Lisi ha spiegato che non le piace l'idea di chi si pone da solo al comando. La persona deve essere al centro e devono essere lasciati da parte gli individualismi. Aprirsi al confronto, al dialogo è la base della democrazia e quindi è un progetto di vera democrazia. Ci sono anche alcuni partiti che usano l'aggettivo democratico nella loro nome stesso e invece a volte la democrazia è proprio quel momento che manca, cioè il confronto, l'ascoltare, sapere ascoltare anche le critiche, mettendosi tutti insieme per il bene comune. Immancabile infine un passaggio sugli attacchi ricevuti nei giorni scorsi da alcuni esponenti locali del PD che hanno bollato come ripicca la sua scelta di candidarsi e non sostenere il collega di giunta Sadegolvad. Non ci si aspetta mai che persone che erano fino a poco tempo fa amiche, che ti chiamavano tutti i giorni e si consigliavano con te, possano sputare fuori tanto veleno. Questo umanamente colpisce e sorprende, però in fondo sono imbrigliati in una politica che ha loro insegnato quello e forse ne sono anche un po' schiavi. La viabilità del centro storico riscalda il dibattito in consiglio comunale. Protagonisti il consigliere di Fratelli d'Italia Renzi e l'assessore candidato sindaco Sadegolvad. Vediamo. Clima teso in consiglio comunale a Rimini. A riscaldare gli animi l'interrogazione con la quale il consigliere di Fratelli d'Italia Renzi ha chiesto di sospendere lo stop al traffico veicolare sul ponte di Tiberio. Il consigliere ha ricordato che la chiusura del ponte bimillenario risulta ancora una sperimentazione che dovrebbe interrompersi il 30 settembre. Secondo Renzi la chiusura ha comportato un aumento di traffico su via Ducale e sui bastioni settentrionali e l'annunciato senso unico Montemare su via Italoflori e via Olivieri stravolgerà poi la viabilità del quartiere Fiorani e del ponte alternativo annunciato dall'amministrazione dice non c'è ancora traccia. A rispondergli piccato l'assessore Sadegolvad. Credo che la conquista della penalizzazione del ponte di Tiberio ciascuno di noi in particolar modo in questo consiglio la debba sentire propria e arrivare a chiedere la riapertura del ponte di Tiberio alle auto davvero è incomprensibile per quello che poi è la sua storia. Comunque prendo atto, si può cambiare anche idea. Benissimo, no no no, lei ha chiesto la riapertura del ponte di Tiberio. Presidente io le chiedo di far traccia. Non è che riaprendo alle auto consigliere Renzi il ponte di Tiberio migliora la situazione su via Ducale. Cioè non interferiscono le due cose. La logica del ponte alternativo è quella di intercettare il flusso di traffico che da nord, Rimini nord, va in direzione di Rimini sud. Buona parte, dicevo, delle macchine che attraversavano il ponte svoltavano a destra per andare verso via Valturio, via Flaminia. La logica è di intercettare il flusso di traffico già all'altezza delle celle e portarlo al di là del deviatore Marecchia più o meno in corrispondenza del lobby. Quando voi avete adottato la chiusura del ponte di Tiberio, voi, non io, avete parlato di sperimentazione, non di soluzione definitiva. Prima bisognava fare il ponte alternativo e poi, e poi chiudere il ponte. Teniamo presente che quel ponte ha fatto il suo mestiere per duemila anni, Assessore, e lei se l'è dimenticato potevate aspettare due o tre anni se volevate fare il ponte alternativo che non avete voluto fare. Ancora. Una festa in stile hawaiano ieri sera per inaugurare i sei chilometri riqualificati del Parco del Mare Nord. Un appuntamento organizzato dai comitati turistici con la collaborazione del Comune di Rimini, a cui ha partecipato anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini insieme al Sindaco Gnassi e a buona parte della Giunta. Per i lavori di riqualificazione del lungomare da Riva Bella a Torre Pedrera è stato necessario un investimento complessivo di 30 milioni di euro. 90.000 i metri quadri di aree pubbliche interessate, con 5 chilometri di nuove piste ciclabili e 80.000 metri quadri pedonalizzati. L'Italia in minatura, con un anno di ritardo a causa del Covid, ha festeggiato ieri sera i suoi primi 50 anni di storia e lo ha fatto con tanti ospiti, ma soprattutto con gli amici che hanno fatto la fortuna del parco, i riminesi. Vediamo. Mezzo secolo e non sentirlo. L'Italia in miniatura ha celebrato venerdì sera i suoi primi 50 anni di storia con un evento che ha visto protagonisti i riminesi. 1200 quelli che si sono registrati online e hanno partecipato gratuitamente ad una festa ristretta nelle presenze a causa delle misure anti-Covid. Era il luglio del 1970, quando il parco, ideato da Ivo Rambaldi, aprì le porte per la prima volta. L'Italia in miniatura è nata dal grande amore che aveva nostro padre per la nostra nazione. In primis, dalla sua voglia di girare e di conoscere, ed è attraverso uno dei suoi viaggi che ha visto qualcosa di simile a questo parco all'estero e ha pensato se loro riescono a fare un parco così bello e non hanno neanche un decimo di quello che abbiamo noi, noi possiamo fare una cosa stupenda. E decise a 48 anni di mettersi in gioco e di scommettere tutto quello che aveva fatto in 30 anni di lavoro, giocandosi tutto su questa idea del parco tematico in miniatura. Quando primo, il 4 luglio del 1970, era il quarto parco tematico in Italia e non c'era neanche la definizione di parco tematico. Quando tornò dal parco che vide, ne parlò con mio zio che lavorava per lui e faceva come hobby i modelli di nave in bottiglia. E disse, oi Sergio, mi è venuto con questa idea, cosa dici? Ci proviamo, oi Ivo, perché mi roba si chiamava Ivo, dammi qualcuno, ti do mio figlio e cominciamo in garage, io e lo zio. Italia in miniatura, ora di proprietà del gruppo Costa, ha accompagnato tre generazioni di riminesi e non solo, ed ora dopo tre anni di lavori e tre milioni di euro di investimenti si presenta pronta per il futuro, ma con basi ben solide nei ricordi di tante persone. Un traguardo perché siamo arrivati a 50 anni, una ripartenza perché dobbiamo farne altre 50 e quindi dobbiamo investire per il futuro e guardare agli errori potenziali del passato, ma specialmente ai successi del passato, perché essere qua dopo 50 anni con un parco completamente rinnovato è un successo e quindi il futuro ci arriderà sicuramente. Un gioiello di parco, un parco completamente rinnovato e assolutamente manutentato in maniera straordinaria su tutta la parte delle miniature. Questi 50 anni sono un segno di un'Italia creativa, perché l'Italia miniatura che cos'è? L'Italia miniatura è sogno, è offrire questo talento italiano, il paesaggio, la bellezza. Io credo che più o meno in ogni famiglia ci sia qualcuno che all'Italia miniatura è passato. Vuoi per i figli, vuoi per se stessi, vuoi per i nipoti, è un parco talmente straordinario che poi racconta e rappresenta anche le tante eccellenze del paese più bello del mondo. E' tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi.